Questo discorso delle firme per le nuove formazioni è incredibile, mentre i partiti attuali no, non serve perché loro sono unti dal Signore. Che ne pensate? Ordine alfabetico. Partirei da un articolo che ho letto su Twitter, perché io non sono più abbonato ai giornaloni tranne che la verità, lo ammetto ormai da tempo. E allora ho letto un fondo della stampa, mi pare, non vorrei sbagliare, che faceva dello spirito e diceva Ecco, avete voluto, volevate le elezioni a tutti i costi, adesso che le avete brontolate perché non c'è tempo per le firme. Allora gli ho risposto, ma che spirito di patata. Est modus in rebus, cioè nel momento in cui il capo dello Stato convoca i comitati elettorali, a parte che li convoca un giorno dopo, cioè veramente comica, tragicomica, un giorno dopo che i parlamentari hanno raggiunto il diritto ad avere la pensione di circa 10.000 e qualcosa, 400 euro lordi, esattamente un giorno dopo, però immediatamente in capo e per evitare che si possa riuscire a fare questa raccolta. Questo è veramente una farsa, è veramente una farsa. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che purtroppo, come hai detto tu, sarà durissimo che queste tante formazioni, se addirittura, adesso io poi non sono esperto di legge elettorale, non ci ho mai capito niente, credo di aver letto che se si mettono insieme, se fanno un assembramento, devono superare la soglia dell'8%, figurati un po' se formazioni nate all'improvviso nel mese di agosto riescono ad avere la sufficienza, ma nemmeno Di Maio con il suo partitello nuovo pare che sia quotato intorno all'1%. E quindi voglio dire, purtroppo come diversi analisti un po' più sofisticati dicono, è tutta una farsa, si andrà comunque ad avere un Parlamento, a parte che ci saranno molti astenuti ancora, poi non si sa i 5 Stelle dovevano finire, e quindi si avrà di nuovo un Parlamento frammentato come prima, per cui o subito o magari dopo due o tre mesi ci sarà una scusa per nominare un nuovo governo tecnico. Questo è quello che dicono, quindi assolutamente non è il meglio che si possa avere. E quindi voglio dire, siamo alle solite, e quindi concordo in pieno, perché devo dire anche a me l'hanno proposto, perché dicono, ah tu sei un nome di grido che può attirare, dico ragazzi, ma perché, non è che, figuratevi se io sono uno che torna indietro, che si tira indietro, dico però, io preferisco dare tutto il mio sforzo a un movimento di resistenza, quindi un movimento extra parlamentare che possa consolidarsi, crescere, fare delle cose solide, e poi quando probabilmente non è questo il momento. No, anche perché, scusami Alberto, anche perché adesso c'è l'attacco alla diligenza, quindi ficcarsi in mezzo alle frecce e ai proiettili di tutti, perché mi sembra di capire che adesso c'è proprio un attacco vero alla dirigenza, tutti lì, a cercare il posticino. Ma poi voglio dire, purtroppo abbiamo visto come, mi dispiace doverlo dire, io poi sono pure un grande ufficiale della Repubblica Italiana, ma dover dire, grazie al Presidente Ciampi, ma dover dire che il Parlamento non mi sembra il luogo vero e proprio della democrazia, io ogni tanto ascolto anch'io le dirette di Radio Radicale, oppure quella di Gere Parlamento, e allora tu stai lì seduto tutto il giorno, poi finalmente viene un dibattito, poi hai tre minuti o dieci minuti per sputare le tue sentenze, hai finito, grazie, passiamo al prossimo, oppure ti smazzi il lavoro magari nelle commissioni parlamentari, è fine, è morta lì, e tutti i giochi si fanno sopra le teste di quelli che stanno vivendo. Sì, perché poi alla fine quella è tutta una pantomima, la decisione è presa in altri livelli. Però, ripeto, voglio dire ancora una cosa, con tutto il rispetto invece di quelli, perché ho discusso con diversi, di quelli che invece tentano di farlo per dare comunque una testimonianza, va bene, c'è il valore della testimonianza e per l'appunto sosteniamoli. Ciascuno decida chi, ma ci mancherebbe altro di perdere eventualmente anche un'occasione di avere anche una sola voce, molte delle quali tra l'altro basticano per Radio Radio, quindi sono amici.